Da Conad è sempre festa! Ogni domenica vi aspetta un pomeriggio di allegria e divertimento. Domenica 29 giugno da Conad, dalle 17 alle 21 ancora tanta animazione per i più piccoli, come sempre a cura di Pidi Pupi, un appuntamento ricco di creatività e colori. Per l'occasione arrivano i pesciolini sacchetto e per merenda mini coni gelato Conad. Conad Superstore si trova a Fondi, in via Appia, chilometro 119, aperto tutti i giorni anche la domenica, con orario continuato dalle 8.30 alle 21.